Ciao a tutti! Oggi prepareremo le orecchiette, pancette e fiori di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti. Gli ingredienti sono fiori di zucca, pancetta, orecchiette, sale, olio, cipolla, provola stagionata e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale la provola. Tritiamo 10 secondi, velocità 4. Andiamo a metterla in una ciotolina. Adesso mettere nel boccale la cipolla e l'olio. 30 secondi. A velocità 4. Uniamo la pancetta. Chiudiamo con il coperchio. 6 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. Il coperchio. Il coperchio. Il coperchio. E il sale. Chiudiamo. 7 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Cosizioniamo adesso la farfalla nel boccale. Teniamo le orecchiette. Teceri di zucca. Il tempo è quello indicato nella confezione della pasta. Nel nostro caso è 6 minuti. 100 gradi. Anti-orario. Velocità 1. Uniamo adesso il formaggio messo da parte. Una parte sola. E facciamo cucinare ancora un po' per un minuto. 100 gradi. Anti-orario. Velocità 1. Bene. La pasta è pronta. Andiamo a impiattare. Orecchietta e pancetta e fiori di zucca. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.